La crisi comunque sta toccando pesantemente soprattutto le famiglie e le persone più fragili, quindi c'è bisogno di una risposta che sia una risposta innanzitutto di prossimità. Questa risposta arriva dalle istituzioni locali per mezzo di un protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Puglia, ANCI Puglia e Rete Italiana di Microfinanza e Inclusione Finanziaria. Un accordo rivolto alla promozione dell'educazione finanziaria come strumento di autonomia per i singoli individui e le famiglie. Per noi era importante permettere, lo permetteremo sia in maniera diretta che attraverso la formazione dei centri di servizi per le famiglie che sono degli sportelli, in pratica abbiamo tramite gli ambiti territoriali, di poter appunto rafforzare le difese dei nostri concittadini con una maggiore consapevolezza, con una maggiore cultura finanziaria. Uno strumento in più che giunge in un periodo storico nel quale nonostante il calo delle denunce, c'è il fenomeno dell'usura e più in generale quello legato alle problematiche finanziarie per le famiglie in aumento. A contrastare c'è tanto, c'è tanto perché soprattutto con il gioco d'azzardo le problematiche nelle famiglie sono tantissime, quindi questo protocollo non fa altro che andare incontro a quelle che sono comunque delle problematiche che i comuni hanno e che devono affrontare. In questo caso ANCI sta cercando di mettere insieme alla collaborazione di RITMI, la Regione e la Fondazione dei Crisantis, proprio uno strumento a favore dei sindaci e quindi che aiuti e supporti le famiglie con questi problemi. Un progetto che non si limita al singolo ambito specifico ma rientra in un contesto ben più ampio. Fa parte di un'attività più ampia che è quella di potenziamento e strutturazione dei centri servizi per le famiglie regionali. Quindi nella programmazione dei fondi per le politiche familiari abbiamo previsto che detti fondi possano essere anche utilizzati per questo tipo di attività che rivolta sia ai cittadini ma anche agli operatori dei centri servizi delle famiglie che dovranno essere messi nelle condizioni di supportare le famiglie in un percorso che riporti all'educazione finanziaria e che quindi possa anche evitare i fenomeni d'usura.